buongiorno a tutti lettori di ttl magazine oggi siamo qui con mavi all'anagrafe ludovica sidoti piacere ludovica benvenuta ciao piacere mio e allora il tuo brano d'esordio sei sei giovane 24 anni forse quasi 25 comunque siamo lì a breve 25 ok perfetto la tua canzone noir è in streaming dal 12 febbraio e in rotazione radiofonica dal 26 febbraio ecco parlaci un po' di questa canzone che insomma è la prima che pubblichi e spiegaci un po' come è nata sì questa canzone è nata da un sentimento di rabbia cioè io sono entrata in sala che volevo un po' rappresentare questo sentimento indirizzato un pochino a tutte quelle persone che non fanno un passetto verso di noi e quindi ne abbiamo costruito su questo concetto una storia d'amore che chiaramente d'amore non ne ha perché è molto tossica non so se hai visto anche il video molto anche esplicito quindi è nata così fondamentalmente cioè da questo sentimento e poi ne abbiamo creato questa storia io entrando in sala volevo fare un mix tra due artiste internazionali che sono Billie Eilish e Lana Del Rey ora io non so se si coglie cioè se si coglie questa cosa insomma nel verano però ci tenevo a fare un pochino questo mix perché secondo me rappresentano quelle che sono le mie due personalità chiamiamole così sì chiamiamole così insomma uno un pochino più eccentrica più alternativa l'altra un pochino più posata un po' più elegante un po' più insomma più sobria dell'altra e quindi fondamentalmente è buono è nato proprio così ok no effettivamente le sonorità si sentono assolutamente quindi sono sono forti anche i riferimenti ecco cosa c'è della situazione che abbiamo vissuto nel senso che questa è una relazione d'amore però insomma i sentimenti di cui parli possono essere riferiti anche ad altro quindi ti ha influenzato in qualche modo l'anno scorso o l'avevi già scritta non lo so se ce l'avevi anche già insomma nel cassetto no no è un lavoro comunque recente io ho iniziato da poco a lavorare con l'etichetta di cantieri sonori di Marco Caneggiula e quindi comunque il lavoro è stato fatto con loro ma influenzato no chiaramente questo è un è un brano che cioè questo sentimento è un qualcosa che magari mi porto dietro già da da tempo e quindi volevo in qualche modo rappresentarlo cioè esternarlo e quindi come dicevi tu prima chiaramente non è da vedere solo in una storia d'amore cioè qualunque altra altra relazione che non sia necessariamente amorosa può chiaramente essere ricollegata a questo brano certo ecco tu ad esempio in questo caso hai scelto Parigi come luogo ovviamente Parigi fa pensare all'amore come mai non hai scelto Roma oppure altra domanda in futuro pensi di inserire la tua città in qualche canzone Roma cosa ti comunica? non lo so cioè nel senso non so se la inserirò Roma da vedere la scelta di Parigi per Noir è stata una scelta un po' pensata nel senso che è paradossale il fatto che una storia comunque d'amore che non funziona venga ambientata nella città dell'amore stesso quindi è stato un po' un gioco di situazioni che abbiamo voluto insomma abbiamo voluto rappresentare così paradossalmente parliamo anche di colori perché insomma Parigi di solito è rosso e qua abbiamo un bel nero quindi insomma esatto cambia tanto ecco invece per quanto riguarda insomma i tuoi inizi come hai iniziato a fare musica quando anche se da bambina insomma come è stata la tua carriera fino ad adesso e poi dopo insomma cosa pensi di fare quindi come stai procedendo nel tuo percorso io ho iniziato a cantare proprio a studiare canto all'età di 13 anni più o meno prima di quel momento comunque amavo la musica ho avuto questa è una cosa che racconto sempre la mia prima esperienza proprio su un palco è stata durante un saggio scolastico dove avevo penso 10 anni e mi piace raccontarlo perché io prima di quel momento non ho ricordi in eventi alla musica in eventi al palco cioè proprio questo è stato il mio primo approccio e me lo ricordo davvero bene come se fosse ieri quindi mi piace dire proprio che è partita da là una scintilla insomma un qualcosa che mi ha legato alla musica poi fino ad oggi solo tre anni dopo ho iniziato a studiare perché comunque io facevo sport i miei genitori non mi prendevano sul serio non che mi limitassero però sai a 10 anni pensavano vabbè questa vuole fare tutto e quindi già fa sport e quindi quando ho iniziato a studiare chiaramente i primi anni sono stati anni tranquilli non pensavo cioè il mio sogno era comunque quello di diventare una cantante però non vedevo ancora questo livello cioè questo progetto chiaramente ero piccola poi ho avuto la fortuna di poter lavorare con delle persone molto competenti ho avuto la fortuna anche di salire su parchi importanti e quindi insomma alla fine non ho mai mollato mi sono talmente appassionata che oggi ho avviato questo progetto con cantieri sonori e in un futuro insomma ci saranno comunque altre novità io con loro avevo un progetto a lungo termine quindi c'è ancora tanto da fare tanto da far uscire ovviamente sei solo all'inizio non come gavetta di per sé esatto però come pubblicazioni quindi ci mancherebbe ecco hai parlato anche di persone comunque che ti hanno aiutata tra le collaborazioni c'è ad esempio anche Alessandro Sgre magari detto così non lo conosco né più però ok abbiamo avuto un momento di scoperta eh sì c'è stato un attimo di vuoto non ti vedevo non ti mancherebbe l'abbiamo recuperato queste cose a distanza ovviamente che ci vengono imposte dal chiede a volte rendono un po' meno in me dicevo appunto Alessandro Sgreccia che magari non tutti conoscono di nome però è il bassista chitarrista dei Velvet i Velvet insomma la band di Boy Band una canzone che ha fatto anche un bel successo all'epoca noi mi metto anche io in mezzo eravamo piccoline però ce la ricordiamo ecco cosa vuol dire collaborare con persone che hanno già fatto la musica anche con certi risultati e quanto possono aiutare loro nella formazione artistica? Sicuramente loro hanno una preparazione già più professionale rispetto a quella che puoi avere tu chiaramente cioè tu in grida a me lavorare con loro è stata comunque una bella esperienza cioè ti relazioni con persone che già conoscono il mondo della musica che già hanno avuto esperienze importanti che hanno vinto anche il festival insomma è stata nel complesso una bella esperienza e chiaramente ti cambia la visione è una figata io lo dicevo sempre perché ascoltavo anch'io tantissimo la canzone dei Velvet quella proprio più famosa e quindi quando ho avuto la fortuna di poter lavorare con loro mi ero gasata tantissimo perché ho detto vedi questa è la canzone che cantavo sempre da bambina ed è così è stata una cosa strana però in un certo senso anche magica e poi si fa un po' i conti sia con la parte professionale che anche con la parte insomma più di fan ecco perché giustamente ed è giusto ovviamente perché penso che qualsiasi cantante parta così è normale affezionandosi anche i propri artisti preferiti insomma i propri ascolti ecco ovviamente speriamo che sia anche di buon auspicio perché citavi anche il festival ovviamente e altri palchi dove hai già avuto la fortuna insomma di salire il festival è l'approdo che tutti sognano quindi ecco ti ci vedresti lì lo sogni come palco? sì sinceramente sì mi preparerò per cercare per poter salire insomma su quel palco ok perfetto nel frattempo ovviamente possiamo ascoltare Noir che è disponibile su Spotify in rotazione radio insomma c'è il videoclip su YouTube quindi ascoltabile in tutti i modi in questo momento nell'attesa anche di un live speriamo quanto prima o comunque di presto speriamo, speriamo presto esatto al più presto veramente per quello che stiamo vivendo e che ne abbiamo bisogno grazie Ludovica in arte grazie a te grazie mille e appunto ricordiamo la canzone Noir disponibile su tutte le piattaforme digitali un saluto ai lettori di ZTL Magazine ciao ciao a tutti un abbraccio